Dicono che non passerà nessun DDL pillon, dicono, dalle parti del Movimento 5 Stelle. Noi siccome ci fidiamo quanto di un venditore pacchista incrociato per caso nel parcheggio di un autogrill, rimaniamo vigili, vigili. Anche perché il decreto pillon, ma anche l'abolizione della legge 194, fidatevi, saranno per la Lega gli spauracchi da sventolare ogni volta che saranno in crisi e saranno in crisi ben presto perché i dati economici stanno affondando e perché il nemico pubblico dell'immigrazione non può reggere nella retorica così a lungo e quindi vigili, più che vigili, attenti. E saranno in crisi anche perché Di Maio finalmente sembra aver alzato un po' la testa e allora sarebbe il caso di imparare una volta per tutte una lezione, che i diritti sono quasi sempre quelli degli altri. Sono diritti che dobbiamo difendere anche se non interessano direttamente noi, anche se non siamo donne, se non siamo gay, se non siamo negri, se non siamo poveri. Interessa anche no. Intanto, mentre a Verona si divertivano a regalare come gadget un feto di gomma, un feto di gomma, e disegnavano le donne come orche assassine, gli orchi, quelli veri, però, di donne ne hanno uccise due, fuori, qui fuori, nel giro di poche ore. A Sassari hanno arrestato Ettore Sini, 49 anni, agente di polizia penitenziaria. Guarda a casa, uno che aveva disponibilità di un'arma, 49 anni. Ha fatto eruzione nell'abitazione della sua ex moglie, Romina Meloni, e ha sparato. L'ha ucciso. Il compagno di lei, Gabriele Fois, è gravemente ferito ed è ricoverato in ospedale. Scrivono i carabinieri di Nuoro, che insieme a quelli di Sassari l'hanno trovato, il fatto è avvenuto a Nuoro, di averlo ritrovato per strada in stato confusionale. Perfetto, il raptus è già bello e pronto, caldo, pronto da servire. In provincia di Enna, invece, ieri mattina, Filippo Marraro doveva incontrare la sua compagna, dovevano parlare della prossima separazione. Loredana Calì si è presentata all'appuntamento, ma è stata ammazzata, anche lei con un colpo di pistola. Ah, le armi, come non sono pericolose, non è vero che siano pericolose le armi. Già. Carraro poi è andato dai carabinieri e ha detto, ha ucciso mia moglie, aveva altri uomini, sempre per quel vecchio vezzo tutto italico di credere che la donna sia una proprietà privata. La coppia aveva due figli adolescenti, erano sposati da una quindicina d'anni. Tra l'altro lui veniva già da un divorzio, da un'altra moglie, dalla quale aveva avuto un altro figlio. I due, guarda un po', erano in fase di separazione. La vendetta è un piatto freddo, più è freddo e più si gusta, ha scritto sul suo profilo Facebook. L'omicida. E tra l'altro sulle informazioni ha scritto anche di essere vedovo, disoccupato, ma ben organizzato. Ben organizzato. Capite di cosa stiamo parlando? E allora verrebbe da dire quando ci sarà lo stesso pugno di ferro incattivito contro questa che ormai è una mattanza? Siamo pronti a riconoscere i numeri? Dove sono le promesse della ministra buongiorno, così sempre in difesa delle donne, piuttosto che perdere tempo di parlare di quella cazzata della castrazione chimica? Dove sono le sue effettive promesse ora che è al governo, tra l'altro nel comodo posto di ministro? Noi continuiamo ad aspettare. C'è un problema però che mentre noi aspettiamo lì fuori, quelle le ammazzano. Buon martedì.